In quest'ultimo mese hanno abbattuto più di 40 nostri mezzi. Non possiamo perdonare questo miserabile nemico che ha distrutto il settore Thunderbolt, la nostra patria. Adoro i Mobile Suit, così come lo spazio e la battaglia. Daryl, riesci a colpirlo? Io non posso prendere la mira da qui! Io sono il capo Daryl Lawrence. Ti terrò costantemente sotto mira. Io sono il sottotenente Hugh Fleming. Quando sentirai del jazz, sarà il segnale del mio orico. Restituiamo a Scythor a Moore la sua gloria. Morta ai codardi di Zion! Per la miseria! Ma che accidenti è? Così è questa, la vera potenza del riuso Psyche di Varys. Con questa configgerò il Goddard! Per la miseria! Grazie a tutti.